Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il realista Cancellito 1, farò la recensione di un film del 1988, una pallotola spuntata. Il tenente Frank Drebin è un poliziotto stralunato e pasticcione al quale viene affidato l'incarico di organizzare il servizio d'ordine in difesa della regina Elisabetta d'Inghilterra. Durante il suo soggiorno negli USA, dopo che il suo partner Norberg viene sparato, Frank indaga per trovare il colpevole e sospetta del magnate Vincent Ludwig, tuttavia Frank non ha prove fino a quando incontra Jane Spencer, l'assistente di Ludwig, che si innamora di lui e decide di aiutarlo nell'indagine. Il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione e la sceneggiatura e di genere commedia la durata è 1 ora e 25 minuti. Il regista è David Zucker, la regia è buona, bravo regista. La data di uscita negli Stati Uniti è il 1 dicembre 1988, il botteghino 152,4 milioni di dollari. L'attore è Leslie Nielsen, bravo attore, nel film anche Priscilla Presley, O.J. Simpson, George Kennedy, Weird Al Jankovic, Robert K. Weiss, Ed Williams, Riccardo Montalban, Joe Griffasi, Charlotte Zucker, Leslie Meyer, Ray Birk, Jim Abrams, Nancy Marciand, Susan Beaubiamian, Jeanette Charles, Ronald Taylor, Susan Breslau, Reggie Jackson, Charles Gerardi, Winfred Friedman, Rick Scheman, Mel Allen, Lawrence Tierney, L'Oreal Hart, Prince Hughes, Dick Hanberg, Dick Vitale, Mark Alton, Joyce Brothers, Edwina Moore, Tom Duggan, Mallory Sandler, Kurt Govdy, Nicholas Wurt, Ronald G. Joseph, Doris S., Hank Robinson, Joe West, Jim Palmer, Tim McCarver, Robert Luan, Larry Pine, Tom Wylett. Saluto! Kevin, Gigi, Samu Brina, Citta, Aliciotola, Mariuccia, Markolf, Festival, Michele Trigigliani, Favijay, Picchiatore, Bulluni, Van Drago, Etelifein122, Il Trio Medusa, MrBikeTV e tutti gli altri miei fan. Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.